Grande successo per la serata delle fonti awards tenutasi lo scorso mercoledì 8 maggio a Palazzo Mezzanotte nella splendida cornice di Borsa Italiana con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo HR 4.0, il futuro del lavoro tra innovazione e capitale umano, moderato da Deborah Rosciani, giornalista di Radio 24 e di La Senti TV. Eccellenza dell'anno, innovazione, comunicazione e sostenibilità ambientale. Il premio va a Knauf Insulation Italia. Eccoli che arrivano, si avvicinano al nostro red carpet per essere un'eccellenza nel settore dell'isolamento a livello mondiale, per la capacità di offrire soluzioni per l'efficienza energetica nell'ambito edilizio in completa armonia con i principi della sostenibilità ambientale. Come conferma la nuova gamma di prodotti in lana minerale di roccia, i Coast Technology. Benvenuti. Eccoli tutti quanti per la foto di rito, unitevi bene così. Mi scopo io. Dottor Curati, la società Knauf Insulation Italia si è aggiudicata il premio alle fonti Awards 2019 come eccellenza dell'anno per innovazione e per la comunicazione della sostenibilità ambientale. Come commenta questo importante riconoscimento? Un premio innanzitutto di grande prestigio che dimostra che il percorso che stiamo facendo è sicuramente il percorso giusto, è sicuramente un punto di pregio sia per il gruppo che per la società italiana. Non deve essere, non vuole essere un traguardo, un punto d'arrivo, deve essere semplicemente un punto che traccia anche la strada che dovremo fare nel prossimo biegno. Ci aspettano sfide importanti e penso che questa sia la dimostrazione che dobbiamo continuare così. La vostra principale mission è quella di operare nella continua innovazione in completa armonia con i principi della sostenibilità ambientale. Qual è il vostro recente progetto che più risponde a queste esigenze e quanto sono state importanti le strategie di comunicazione per il successo? Beh, innanzitutto la comunicazione sta diventando sempre più centrale all'interno di quasi tutte le organizzazioni e soprattutto direi nella nostra. La comunicazione soprattutto di progetti innovativi è fondamentale per il successo dei progetti stessi. Quindi noi abbiamo lanciato l'anno scorso la lana minerale, lana di roccia con tecnologia Ecos, che è una soluzione altamente innovativa per il settore, quindi una soluzione senza forma delta aggiunta. La lanciamo e l'abbiamo switchata, adottata nella lana di roccia dopo dieci anni che già la adottavamo nella lana di vetro e questo sicuramente è un punto di vantaggio competitivo rispetto agli altri player del mercato. L'abbiamo comunicata in realtà penso in maniera abbastanza innovativa, perché non ci siamo concentrati sul prodotto, ci siamo concentrati sulle persone, sulla salubrità degli spazi interni. Noi spendiamo il 90% del tempo all'interno di quattro mura, quindi è fondamentale per noi la salubrità dei nostri prodotti, visto che sono a contatto con chi abita in realtà, gli spazi e gli edifici residenziali e non. Quindi questa è stata la strategia del nostro lancio, abbiamo altri progetti in pipeline, quindi continueremo su questa strada. Knauf, Insulation Italia è una delle principali aziende in crescita dell'anno corrente, quali sono le vostre strategie di sviluppo per il futuro e quali le sfide da affrontare nei prossimi anni? Sì, abbiamo diverse sfide che ci aspettano, abbiamo lanciato l'anno scorso un piano commerciale su tre anni, questo è uno dei passi fondamentali che dovevamo fare, ci sono altri passi che ci aspettano, in primis stiamo lanciando in questi giorni un nuovo assetto commerciale e distributivo sul territorio, lanciando dei punti KI, stiamo contestualmente lavorando sempre sull'innovazione di processo e di sviluppo, adottando un nuovo footprint logistico che aumenterà il livello di servizio e di qualità dei nostri prodotti. Non ultimo la continua attenzione all'efficientamento energetico che rappresenta per il nostro paese un grandissimo potenziale e una grandissima opportunità, saremo uno dei principali sponsor del Festival d'Energia, lo siamo già stati l'anno scorso e continuiamo su questa strada.